tenetevi andare a casa ma che ti pensi che tanti giù? io me ti mangio, me ti mangio i mussi io io me ti mangio i mussi a pezzo di merda me ti mangio io te... ragazzi dai porti io te mangio i mussi a brutto senza male a pezzo di merda senza male ma che fai? io te lo hai detto ho l'altro t'ammasso io ma che fai? ma che fai? ti ammasso io ma che fai? ma che fai? ma senza male senza male ma senza male ma senza male ma senza male catteggi dai per un bagno dai stanno a piedi carichiamocela a brutto ok devi arrivare stiamo 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 che vuoi fare che vuoi fare vuoi fare io mi ho testato in coro di te ma tu ma tu ma tu non stai ma tu non stai ma tu non stai ma tu non mangi la nuocchia ma non mangi oh Allora, ti faccio parlare qua, guarda questa faccetta tagliardata, vieni, vieni a facerlo, non c'è niente, vieni il tuo cazzo, allora facciamo una cosa, io sono bravo ragazzi, ora ti faccio vedere dove stai, vieni qua, allora io te sto, te ne faccio vedere, tu sei cianco, io so quanto devi vedere, a Mongolo, te ne dico. Non è il caso, non è il caso, non è il caso, non è il caso, allora non è il caso di stare qua, in queste condizioni, ok? Ascolta, è successo già altre volte, che vuoi fare, vuoi venire in ufficio? Io sì, ok, eh, che vuoi fare?